La storica giornata dei due papi santi, il giornalista e scrittore Maurizio Schefflin, esempi di coraggio. Taglio delle province, il consigliere Aretino Simon Pietro Palazzo, ecco quanto vi costo, i veri sprechi in regione e nelle partecipate. Sostenibilità e consumo responsabile, il convegno all'Università di Arezzo. La tecnologia a servizio della cultura, alla biblioteca di Arezzo arrivano i lettori, i books. Fraternità dei laici, taglio del nastro per l'agriturismo, concezione a Cassiglion Fibocchi. Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura la storica giornata di ieri con la canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. In merito andiamo a sentire l'opinione dello scrittore e giornalista Maurizio Schefflin che dice che i due pontifici sono un esempio di coraggio, quel coraggio che oggi ci manca. L'eccezionale giornata della santificazione, della canonizzazione dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, ha segnato sicuramente, qui si rischia sempre di essere un po' retorici, ma è inevitabile, ha segnato indubbiamente una giornata storica per la Chiesa e per il mondo intero. Il numero delle persone lo ha testimoniato, il numero non dà significato di per sé alle cose, però 800.000 forse più pellegrini che si muovono da tutto il mondo per incontrarsi, per stare insieme al Papa Francesco, per la canonizzazione di queste due grandi figure sicuramente dicono qualcosa. E che cosa ci dicono oggi questi due giganti dello spirito, della fede? Ci dicono tanti messaggi, sono stati segnalati anche da Papa Francesco. Io direi il primo, il coraggio, ecco il Papa ha messo in luce il coraggio di questi due uomini, il coraggio di Giovanni XXIII, il Papa che doveva essere il Papa della transizione e poi è stato il Papa della svolta in qualche modo, e il grande coraggio di Giovanni Paolo II, andare per tutto il mondo senza fermarsi mai a dire la verità di Cristo. Ecco, il coraggio che è una delle grandi virtù anche legate alla fede e che manca all'uomo di oggi, e credo anche questa sia la grande lezione. Il coraggio che deriva dalla fede può davvero cambiare il mondo. E a garantire l'assistenza alle centinaia di migliaia di pellegrini che ieri hanno invaso Piazza San Pietro e le strade adiacendi, c'era anche una squadra di soccorso sanitario della Misericordia di Arezzo. I volontari presenti si sono detti molto stanchi ma assai soddisfatti. Solo noi, sottolinea il capo squadra Leonardo, abbiamo potuto compiere oltre un centinaio di trattamenti nelle 36 ore complessive di assistenza. Un intervento della Misericordia di Arezzo è stato ripreso e mandato in onda da una troupe del Tgcom 24. Taglio delle province, il consigliere aretino Simon Pietro Palazzo. Ecco quanto vi costi, veri sprechi in regione e nelle partecipate. Quanto ci costa la politica? È uno dei temi caldi che ha tenuto banco negli ultimi tempi. In periodo di crisi la scure è caduta in particolare sulle province. La riforma del Rio dice addio ai vecchi antilocali, ma in molti restano scettici sul risparmio effettivo che questo taglio comporterà per le casse dello Stato. Ad esempio, quanto ci costa un consigliere provinciale nel suo incarico quinquennale? Meno del previsto. Almeno è quanto spiega, dati alla mano, Simon Pietro Palazzo, capogruppo Udc nel consiglio provinciale di Arezzo, che ha scelto di rendere noto quanto ha ottenuto come rimborso spese per il suo incarico di consigliere con il 90% di presenze e di presidente di commissione controllo e garanzia. Esattamente 6.767 euro netti in 5 anni. Quello che viene additato, e uso l'ironia, come costa la politica, in realtà in 5 anni prende quanto prende in metà mese un consigliere regionale o quanto prende in un terzo uno dei nostri onorevoli deputati. Ma dopo 5 anni di movimento nella provincia, dopo 5 anni di presenza in consiglio, che qui non è un'indenità fissa mensile come sembrerebbe fuori da queste stanze, ma è un gettone di presenza. È dunque inutile l'abolizione delle province? No, secondo il consigliere Palazzo, che tuttavia evidenzia come altri enti molto più dispendiosi, in primis la regione, siano destinate a diventare i prima o poi obiettivi di futuri tagli. I consigli regionali non sempre hanno un numero che permette il numero regale, quindi il loro naturale svolgimento dei lavori. Non sempre danno risposte ai cittadini, in quanto non sono eletti con le preferenze e soprattutto perché dalla creazione delle regioni ad oggi è aumentato esponenzialmente il debito pubblico. Simon Pietro Palazzo non dimentica neppure i costi delle partecipate, che anche nell'aretino incidono sulla spesa pubblica. Una stima del Ministero dell'Interno parla di 7 miliardi annui di costo delle partecipate, di cui 3,8 solo in consigli di amministrazione. Io, se fossi oggi a governare, inizierei a guardare anche quelle. il proprio compito fino a quella data nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini. Il conto consuntivo è stato approvato con 16 voti favorevoli e 5 contrari. Al voto del bilancio preventivo si sono assenuti i 4 consiglieri di centrodestra. Sostenibilità e consumo responsabile. Il convegno al Dipartimento aretino dell'Università di Siena. Sostenibilità e consumo responsabile. È questo il titolo del convegno che si è svolto ad Arezzo, al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena, Ateneo che coordina, sotto legida dell'ONU, la Rete Mediterranea sulla Sostenibilità, MedSolutions. La giornata di studi cui è aderito il Presidente della Repubblica è stata promossa dall'osservatorio ETHOS, istituito presso il campus universitario aretino e diretto dal professor Paolo Piccari. Per noi si tratta di un convegno molto importante su un tema centrale, strategico direi, perché l'Università di Siena e in questo senso anche il nostro Dipartimento si è impegnato a produrre ricerche utili alla progettualità e alla realizzazione di un mondo sostenibile, una formazione utile perché i futuri professionisti devono essere dotati di idee, pratiche per sostenere la prospettiva della sostenibilità. E poi questo, l'altro tratto interessante del convegno, è che è un convegno transdisciplinare. Se voi vedete ci sono economisti, ci sono colleghi di scienze naturali, ci sono pedagogisti, ci sono filosofi. Noi ci occupiamo di studiare la sostenibilità da tutti i punti di vista, quindi l'ambiente ma anche come educare e far apprendere ai cittadini a uno stile di vita che sia compatibile con un mondo sostenibile. Abbiamo tra noi peraltro molti ospiti, sia interni che esterni e quindi è un grosso momento di dibattito e di elaborazione di idee e di pratiche sulla sostenibilità. Perché è importante parlare di questi temi oggi? Perché dobbiamo ricordare ai consumatori quanto sia importante un consumo consapevole da parte loro. Devo dire che i cittadini sono sempre più attenti alla qualità dei prodotti che acquistano anche dal punto di vista dell'impatto che questi prodotti hanno sull'ambiente. spesso ci chiedono qual è l'impronta che la produzione di un prodotto lascia, ci chiedono con quali tecniche prodotto e quindi con quali mano d'opera e in qualche modo auspicherebbero di trovare queste informazioni in etichetta, perché non sia solo il prezzo o la qualità percepita di un bene ad indirizzare le scelte, ma anche una sensibilità ambientale. La cattedrale di Arezzo, Gremita, ha dato l'estremo saluto questo pomeriggio ad Antonio Cherici, storico regista e cameraman di Teletruria, morto a 54 anni per una grave malattia. Circa mille le persone presenti al funerale celebrato da Dondino Liberatori, dalla nostra emittente, da tutto lo staff, le condoglianze alla famiglia e ai colleghi dell'emittente. I carabinieri della stazione di Fogliano della Chiana hanno arrestato per furta aggravato un 35enne della Val di Chiana. Sabato pomeriggio l'uomo ha forzato l'ingresso di un'abitazione nel Cortonese, entrato e ha smontato e rubato sei termosifoni. I militari lo hanno rintracciato poco dopo e nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuata a suo carico hanno trovato oltre ai radiatori anche altro materiale proveniente da altri due furti. Questa mattina il 35enne ha patteggiato la pena ad un anno e 11 mesi di reclusione e 600 euro di multa con sospensione della pena. La tecnologia a servizio della cultura alla Biblioteca di Arezzo arrivano i lettori e-books. Da oggi la Biblioteca Città di Arezzo offre un nuovo servizio ai propri utenti. La possibilità di prendere in prestito gratuitamente lettori digitali di e-books che consentiranno di portare con sé tantissimi libri in formato elettronico. Al momento sono 12 gli apparecchi disponibili in cui sono stati caricati 50 titoli di vario genere. C'è da Cervantes, quindi classici, a che ne so, Lucarelli insieme con Camilleri, quindi autori più moderni. E' possibile per un mese avere a disposizione l'e-book caricato con questi 50 titoli, 30 giorni che è possibile chiedere anche di prorogare. E' un servizio facile nel senso che chi richiederà di usare l'e-book dovrà lasciare una piccola quota di caparra che sono 10 euro che riprenderà quando ci riconsegnerà l'i-pad e la fotocopia del proprio documento. La Biblioteca di Arezzo ha potuto proporre questo nuovo servizio grazie ad un finanziamento regionale ed è la prima della rete interbibliotecaria a proporlo. Un'iniziativa che non sostituisce la disponibilità dei libri cartacei ma ampia l'offerta dell'ente. E' un'opportunità che ovviamente non fa concorrenza al libro cartaceo, è un'opportunità in più. Noi siamo ovviamente sempre a favore anche di mantenere la particolarità dell'oggetto libro e il piacere dell'oggetto libro. Però abbiamo la possibilità di sfruttare due filoni in cui ci viene incontro la tecnologia. E' stata rintracciata la donna che aveva fatto perdere le proprie tracce nei pressi di Gragnone alle porte di Arezzo. La cinquantenne in evidente è stato confusionale dopo aver spinto un'auto in un burrone, si era allontanata a piedi sulla strada che da Gragnone conduce al Monte Lignano facendo perdere le sue tracce. Gli uomini della volante l'hanno ritrovata dopo qualche ora dopo aver battuto palma a palmo la zona. Fraternità dei laici, taglio del nastro per l'agriturismo concessione a Castiglion Fibocchi. Tutto pronto a Castiglion Fibocchi per l'apertura dell'agriturismo concessione che la Fraternità dei laici ha restituito all'antico splendore. Si tratta di un fabbricato rurale già facente parte del patrimonio immobiliare dell'ente a seguito dell'ascito del commendatore Giovanni San Battista Occhini. La Fraternità come noto si occupa di sociale quindi i nostri diciamo così eventi nonché operazioni di ripristina e di recupero hanno sempre questa valenza comunitaria. Questa volta ce l'abbiamo fatta, abbiamo mantenuto i tempi che ci eravamo prefissati ovvero ristrutturare una delle tante bellissime dimore della campagna, in questo caso in località Concezione, Dungola via dei Sette Ponti, 55 per l'esattezza il numero, dove da tantissimi anni la Fraternità vendeva le mele per cui forse alle persone che abitano vicino è noto per questa funzione e abbiamo appunto ristorato e ristrutturato rendendo l'appunto fruibile in chiave così di agriturismo tutta l'intera casa, la rimessa, il giardino intorno. Abbiamo lasciato però le viti perché comunque per noi sono aziende tenute di Fraternità. Il taglio del nastro dell'agriturismo si terrà sabato 10 maggio alle 17.30 alla presenza della cittadinanza. Per l'ente ogni struttura che viene rimessa a posto o con una destinazione o con un'altra è sempre un traguardo importante per cui la Fraternità è della città, la Fraternità è dei comuni dove ha i terreni per cui è bello festeggiare tutti insieme. Oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia per la 57esima edizione di Foto Antiquaria, la tradizionale esposizione di attrezzature fotografiche organizzata dalla Fotoclub La Chimera in collaborazione con Fotoottica Franchini e Confesercenti. Buona affluenza di pubblico domenica 27 sotto le logge Vasari in Piazza Grande ad Arezzo. Per collezionisti ed appassionati è stato praticamente impossibile non trovare il modello o l'accessorio che stavano cercando. Dalle macchine d'epoca con alcuni esempi risalenti addirittura all'Ottocento fino a quelle digitali, inclusi modelli di ultima generazione. Foto Antiquaria che si svolge due volte all'anno è la più antica mostra a mercato di attrezzature fotografiche d'epoca famose in Italia e all'estero. Come sempre i visitatori hanno avuto l'occasione di cimentarsi nella fotografia con una modella che ha posato per loro. Sotto le logge Vasari è stato possibile visitare inoltre due mostre fotografiche, sprazzi di memoria che raccoglie le foto dell'archivio storico del Fotoclub La Chimera e Arezzo 2013, immagini per il futuro. Ed ora come ogni lunedì il consueto appuntamento con Corner, l'angolo dello sport. Il nostro Riccardo Ciccarelli ci porta a conoscere l'ASD Bocce Arezzo. La società è presente ad Arezzo dal 1933, quando il primo nucleo era situato nei pressi di Porta San Clemente. Poi nel 1986 è stata costruita l'attuale struttura che ospita l'associazione sportiva dilettantistica Bocce Arezzo. Il bocciodromo comunale rappresenta per dimensioni e servizi offerti una vera e propria eccellenza nel panorama regionale e nazionale. Infatti oltre ai quattro campi i 140 associati possono usufruire anche di un'area ristorazione, una sala tv e spazi per il gioco delle carte e della dama. Affiliata alla Federazione Italiana Bocce, la società partecipa con i propri atleti ai campionati italiani, provinciali e regionali, sia con formazioni individuali, coppie eterne, sia in squadra. Inoltre i giocatori aretini si sono distinti anche all'interno dei campionati italiani di società. La formula adottata dalla realtà aretina è quella delle bocce all'italiana, una specialità che prevede un regolamento molto rigido. Nel stabilire delle regole di gioco fa in modo che il potente fortuna, che comunque sia non si può distaccare dal gioco, perché essendo un gioco il potente fortuna esiste sempre, però abbia meno incidenza possibile nello svolgimento della gara o della giocata. Uno sport che non si rivolge solo ad un pubblico prettamente maschile. Noi abbiamo una rappresentanza femminile molto agguerrita, abbiamo due punte veramente importanti che sono Arati e Leonori che si fanno onore quasi tutte le domeniche perché ottengono risultati molto importanti. Da un lato l'aspetto sportivo, se vogliamo anche quello agonistico, dall'altro il fattore di aggregazione sociale che lo sport, quello delle bocce porta con sé. Noi ospitiamo tutti i giorni una sessantina, settanta persone che a vario titolo frequentano questo ambiente. Ci sono chi gioca a bocce, chi gioca a carte, chi anche viene qui soltanto per vedere o per assistere al gioco degli altri, però è molto aggregante perché l'ambiente si presta per questo e noi facciamo in modo, noi società diciamo, facciamo in modo che questo non dico abbia la prevalenza, però sia un fattore molto importante nella nostra attività sociale. Le attività di socializzazione sono rivolte anche al coinvolgimento di persone con disabilità. Ospitiamo anche dei gruppi di disabili che noi assistiamo con dei preparatori, con delle persone che si dedicano a loro durante la loro attività e questo ci riempie molto di orgoglio, ci gratifica moltissimo. Due vittorie, una sconfitta e il bottino colto dal baseball Arezzo in un fine settimana caratterizzato dalle forti piogge. Il successo più importante è stato colto dalla Banca Etruria Baseball che spugnando per 15-5 il campo dell'Astra Signa si è mantenuto a punteggio pieno al comando del campionato di Serie C. La seconda vittoria arriva dalla Vivaio. L'Arezzo nel campionato ragazzi ha sostenuto il suo primo acuto stagionale battendo per 15-8 il Grosseto. Una trasferta da dimenticare è stata invece quella della Mona Lisa Softball che dopo un viaggio di oltre 11 ore nella prima giornata del campionato di Serie A2 ha perso per 3-1 contro l'Atomos Chieti in una partita terminata in anticipo a causa della forte pioggia. Primo momento è questa la nostra ultima notizia. Ricordiamo subito dopo la sigla il consigliato appuntamento con il meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.